La Seconda Guerra Mondiale, con tutto ciò che ha comportato al suo interno, è stata un evento spartiacque non solo nella storia del XX secolo, ma proprio nella storia dell'umanità, perché è stato un evento senza precedenti, letteralmente. È vero che poco più di vent'anni prima c'era stata la Prima Guerra Mondiale, che già di per sé era stata una catastrofe inaudita per numero di vittime, per le proporzioni del conflitto bellico. Però nella Seconda Guerra Mondiale la situazione si complica ulteriormente, si fa ancora più spaventosa, aumenta esponenzialmente il bilancio delle vittime, si stimano circa 60 milioni di morti all'interno della Seconda Guerra Mondiale e sono stime difficilissime da fare, tant'è che potrebbe essere che le vittime siano state anche di più, milioni e milioni di più. La Seconda Guerra Mondiale è stato il culmine dei totalitarismi europei, la Germania nazista, l'Italia fascista, ed è stata la cornice all'interno della quale si è sviluppato l'Olocausto, la Shoah, il genocidio del popolo ebraico attuato attraverso quel meccanismo terribile dei campi di sterminio. Ecco, proprio in considerazione delle tragedie della Seconda Guerra Mondiale, già prima della fine del conflitto, i capi degli stati che erano appunto gli alleati, gli nemici dell'asse, avevano stabilito che alla fine della guerra ci sarebbe stato comunque un processo per punire, accertare e punire le responsabilità di questa catastrofe. Questo processo ha inizio nel novembre del 1945, cioè sei mesi dopo la resa della Germania e la fine della guerra in Europa, e si svolge nella città di Norimberga, infatti verrà chiamato il processo di Norimberga, poi avverranno altri processi molto simili che rientrano appunto nella definizione di processi di Norimberga. Perché Norimberga? Perché Norimberga era stata la città tedesca che aveva costituito un po' il cuore della propaganda del partito nazista fin dalla sua ascesa all'inizio degli anni Trenta, ed era stata soprattutto la città dove erano state promulgate nel 1935 le leggi antisemite applicate dalla Germania di Adolf Hitler contro gli ebrei. Quindi aveva un forte valore simbolico la scelta di questa città. E in questo primo processo di Norimberga, che durerà quasi un anno, vennero imputati 24 generali, gerarchi e altri ufficiali del Terzo Reich, in quanto considerati i principali responsabili degli orrori che erano avvenuti negli anni precedenti. Un processo analogo in realtà non avvenne in Italia. Perché? Perché in Italia il regime fascista era crollato prima della fine della guerra, perché in Italia c'era stato il fenomeno della resistenza, le condizioni storiche con cui l'Italia ha vissuto la fine della Seconda Guerra Mondiale erano state molto diverse rispetto a quelle della Germania, per cui il processo contro i responsabili degli orrori perpetrati dall'asse riguardò in primo luogo la Germania. Da un punto di vista legale e giudiziario, questo primo processo di Norimberga non ha precedenti nella storia del diritto, tant'è che poi verrà anche contestato per certe sue modalità. Si conclude nell'ottobre del 1946 con la condanna a morte della metà degli imputati. Fra questi il principale era Hermann Göring, che era stato il braccio destro di Hitler, uno dei capi delle forze armate tedesche. Hitler, come sapete, era morto prima della fine della guerra, si era suicidato, così come Goebbels e altri alti gerarchi nazisti, e Göring si suiciderà in carcere proprio la sera prima rispetto alla sua esecuzione capitale. La vicenda del processo di Norimberga, fra l'altro, è stata raccontata in un film bellissimo intitolato Vincitori e Vinti, diretto da Stanley Kramer, e in generale rappresenta l'inizio di una resa dei conti rispetto a un fenomeno terribile, quale quello dell'olocausto, un genocidio, un crimine contro l'umanità, oltre che contro il popolo ebraico, ed è un fenomeno che, nel complesso dell'orrore della Seconda Guerra Mondiale, ha proposto, purtroppo, una serie di spunti di riflessione drammatici, spunti di riflessione riguardanti come sia stato possibile, come è potuto accadere qualcosa del genere, che cosa ha indotto tante persone ad assecondare, se non proprio ad approvare, lo sterminio di milioni e milioni di altri esseri umani. Ecco, sono domande importanti, sono domande che la storia ci mette di fronte, studiare la storia non è soltanto conoscere una serie di eventi del passato, ma è anche imparare a riflettere, provare a riflettere su questi eventi del passato, sulle loro dinamiche, sulle loro cause, e provare a capire in quale contesto certi eventi potrebbero rischiare di ripetersi anche successivamente, anche ai nostri tempi. Quindi il processo di Norimberga e in generale la riflessione sul locausto ci costringe ancora oggi a porci una serie di interrogativi. Rispetto a tali questioni è particolarmente significativa una sorta di, diciamo, appendice, cioè di prosecuzione del processo di Norimberga, ovvero un altro processo che si svolgerà fra il 1961 e il 1962, che vide coinvolto Adolf Eichmann. Chi era questo Adolf Eichmann? Era, nel corso degli anni Trenta, un alto funzionario del regime nazista in qualità di esperto di questioni ebraiche. Nel 1942 si tenne la conferenza di Von C, una famigerata assemblea di alti funzionari del regime nazista, in cui venne stabilita la cosiddetta soluzione finale, ovvero il modo in cui sbarazzarsi di quei milioni e milioni di ebrei che popolavano soprattutto l'Europa dell'est, ma in generale i vari territori occupati dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Eichmann aveva partecipato alla conferenza di Von C ed era stato l'ufficiale operativo che aveva organizzato quel terribile sistema di trasporti, di trasporti ferroviari innanzitutto, che con una spaventosa efficacia aveva portato, deportato, anzi, milioni e milioni di ebrei nei campi di sferminio, in cui poi circa sei milioni di loro avrebbero trovato la morte. Eichmann era riuscito a fuggire dopo la Seconda Guerra Mondiale, a rifugiarsi in Argentina sotto falso nome e incognito, lì però venne individuato da alcuni agenti del Mossad, servizi segreti israeliani, nel 1960, portato in Israele, dove, nello stato di Israele, appunto, nella città di Gerusalemme, venne processato per crimini contro l'umanità e crimini contro il popolo ebraico, per essere poi condannato a morte. Il processo d'Eichmann ebbe un'enorme risonanza mediatica, proprio perché, tra l'altro, siamo negli anni Sessanta ormai, quindi nell'epoca della televisione, dei telegiornali, in cui l'informazione già navigava a grande velocità e con una diffusione capillare, appunto, grazie alla televisione, ma non solo. E questo processo sarebbe stato seguito, come inviata del New Yorker, di una rivista americana, da un'importantissima scrittrice, filosofa e giornalista tedesca ed ebrea, che si è regata poi a vivere negli Stati Uniti, ovvero Anna Arendt. Anna Arendt avrebbe poi ricostruito, appunto, questo reportage del processo d'Eichmann in un libro bellissimo, estremamente interessante, soprattutto magari per studenti in età da liceo o per persone adulte, che si intitola La banalità del male. È un libro importante perché ci offre intanto uno sguardo molto dettagliato rispetto a come fu gestita la cosiddetta questione ebraica nelle varie fasi della Germania nazista, fino ad arrivare alla soluzione finale, e ci descrive nel dettaglio l'organizzazione dell'Olocausto, cioè come fu messa in piedi quella mostruosa macchina di morte che per anni, appunto, avrebbe portato milioni di vittime nei campi di concentramento. Ma è un libro interessantissimo La banalità del male, anche e soprattutto perché prende di petto quelle questioni che avevamo sollevato poco fa, ovvero come sia stato possibile, come alcuni esseri umani si sono resi responsabili in qualche modo di questa tragedia che è costata la vita di milioni e milioni di altri esseri umani. Ecco, partendo dalla figura di Eichmann, Anna Arendt si pone e ci pone queste domande, provando ad elaborare alcuni spunti di riflessione. Perché questo titolo La banalità del male, che tra l'altro è diventata poi un'espressione famosissima? Ecco, lo spunto per il titolo è evidente fin dalle prime pagine del libro, quando Anna Arendt, descrivendo questo Adolf Eichmann, rappresenta, in base appunto a ciò che lui dice, al modo in cui ragiona all'inizio di questo processo, ci rappresenta, dicevo, un uomo molto mediocre. Eichmann non è una sorta di sosia di Hitler, cioè non è, non appare come un genio del male, un genio del crimine, qualcuno che ha questo aspetto mostruoso nel suo odio indiscriminato contro gli ebrei, non è una persona, ci dice l'Arendt, animata da un sadismo, da una volontà di sterminio e di distruzione, cioè esattamente come noi oggi ci immaginiamo, un gerarca nazista, come oggi ci immaginiamo un nazista. Il nazista è proprio l'emblema del male assoluto, no? Ecco, invece l'Arendt ci descrive, attraverso la ricostruzione di questo processo, un personaggio mediocre, banale, che fatica a elaborare un ragionamento complesso, un personaggio che non sembra neanche avere queste motivazioni così viscerali, così forti nel voler portare avanti uno sterminio, ma che banalmente ha eseguito degli ordini, ha cercato il modo più efficace per eseguire una serie di ordini che gli sono arrivati dall'alto. Naturalmente i giudici sapevano che sarebbe stato quanto mai confortante poter credere che Eichmann era un mostro, cioè pensare che se l'olocausto era avvenuto era perché a un certo punto in Germania c'era stata una concentrazione di personaggi mostruosi, malefici, luciferini, che avevano messo in atto questo piano terrificante. Ma il guaio del caso Eichmann, prosegue l'Arendt, era che di uomini come lui ce n'erano tanti, e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano e sono tuttora terribilmente normali. Dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche, dei nostri canoni etici, cioè dal punto di vista della legge e canoni etici, ovvero dal punto di vista del bene e del male, di ciò che riteniamo giusto e sbagliato, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme, poiché implica che questo nuovo tipo di criminale, realmente hostis generis umani, cioè nemico del genere umano, il nazista, colui che vuole distruggere un'intera parte della popolazione mondiale, un intero popolo. Ecco, questo nuovo tipo di criminale commette i suoi crimini in circostanze che quasi gli impediscono di accorgersi o di sentire che agisce male, ovvero non si rende conto di star compiendo qualcosa di atroce. Perché? Perché è animato da un tipo di mentalità diversa. Nell'ottica del nazista, ci dice l'Arendt, ciò che lui sta facendo è eseguire una serie di ordini che in qualche modo rappresentano la presunta normalità di una situazione come poteva essere la Germania ai tempi di Hitler. Con la banalità del male, dunque, l'Arendt ci vuole far riflettere sul fatto che questo Eichmann non fosse un'eccezione, nel senso non fosse un personaggio eccezionalmente malevolo, spietato o sadico, ma rappresentasse in qualche modo invece la mediocrità, ovvero la normalità, diciamo, di un contesto come quello di un totalitarismo. In quel contesto era considerato normale, rispettabile, discriminare gli ebrei, era considerato normale toglierli di mezzo, perché questo era ciò che voleva lo Stato, ciò che voleva la maggioranza, per così dire, e quindi qual era il modo per zittire la coscienza rispetto all'orrore dello sterminio? Era annullare il pensiero, ci dice l'Arendt. Cosa ha fatto Eichmann? Non è riuscito a pensare, e con pensare lei proprio spiega, significa pensare nella pelle, nella mente di qualcun altro, cioè non è riuscito a creare l'empatia, non è riuscito a mettersi nei panni delle persone discriminate, delle persone deportate e poi sterminate. Non è riuscito ad avere quella caratteristica che era base dell'essere umano, ovvero quella del pensiero, della riflessione, quindi dell'immedesimazione nell'altro. Eichmann poi ha avuto un ruolo organizzativo fondamentale nella soluzione finale, quindi nell'olocausto, e per questo è stato poi responsabile di crimini contro l'umanità ed è stato processato e condannato. Però quante altre persone in quel periodo, in Germania, ma anche in Italia, ma anche in tantissimi altri paesi che sono stati toccati in qualche modo dal nazismo e dall'olocausto, quante altre persone nel loro piccolo hanno agito nella stessa maniera? Cioè hanno zittito il pensiero, hanno zittito la coscienza perché? Perché sono adeguate a ciò che facevano tutti gli altri, sono adeguate alla norma? Hanno detto, ok, io mi limito a eseguire le indicazioni dei miei superiori, mi limito a seguire il flusso e quindi faccio qualcosa che ritengo magari sbagliato, ma che in quel momento la società, ciò che è intorno a me, chi è al di sopra di me, mi dice invece che è legge, mi dice invece che sia giusto. Ecco, studiare la storia, riflettere sulla storia, riflettere attraverso i libri che ci parlano della storia o delle opere d'arte che in qualche modo raccontano tali eventi, ci serve anche a questo, a provare a dare risposta a certe domande, a ciò che appare incomprensibile, assurdo, e l'olocausto è ciò che è assurdo per eccellenza, che è incomprensibile per eccellenza perché è una tragedia di proporzioni inaudite e che non ha uguali in effetti nella storia del ventesimo secolo. Ora, l'olocausto non è stata solo responsabilità di un piccolissimo gruppo di persone malvagie, Hitler in testa, che hanno voluto questa situazione, ma è stata responsabilità anche di tutti coloro che, come ci dice Larent, a un certo punto hanno abdicato alla loro capacità di pensare, alla loro capacità di riflettere, alla loro capacità di dire di no. E ecco, la storia in qualche modo ci vuole suggerire anche questo. L'olocausto non è qualcosa di relegato nel passato perché all'epoca sono vissuti Hitler e altri geni del male, ma è qualcosa che rischia di verificarsi ogni qualvolta noi come esseri umani decidiamo di non pensare, di eseguire gli ordini, di andare nel flusso della maggioranza, di adeguarci alle situazioni senza porci dei problemi etici, dei problemi morali. Perché in quel momento noi ci comportiamo come Ponzio Pilato, ce ne laviamo le mani, scarichiamo la responsabilità su qualcun altro, accettiamo passivamente di perpetrare il male, perché? Perché così fanno tutti gli altri, perché così fa la massa. E questo può avvenire nel grande, nel gigantesco, la Germania nazista e l'olocausto, può avvenire nel piccolo, con piccoli atti di discriminazione e di odio che vediamo accadere, vediamo accettati tutto attorno a noi nel nostro presente. L'Arend ci invita invece a questo, a non abdicare mai la nostra capacità di pensare, di riflettere, di immedesimarci negli altri, di provare empatia e, quando lo riteniamo giusto, la nostra possibilità e capacità di dire dei no.